Allora, come la mettiamo? È questo che chiama il rifornimento viveri di emergenza? Abbia pazienza, signor Jensen. Stia calmo un momento. Signor Buckner, ho fame. Sta buono, troveremo qualcosa. È una tragedia, attaccati dagli animali e senza viveri. Che consigli di fare adesso, Robinson? Una cosa è sicura. Le bestie hanno fatto una bella scolpacciata. Eppure questa storia dell'ozono c'entra in qualche modo. Io non so dire come, ma me lo sento. E come? Con un processo di immaginazione che ora è del tutto superfluo. No, 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 no. Non è la mia immaginazione. Potrà essere tutto, ma non è la mia immaginazione. L'unica cosa che conta è che non c'è da mangiare. E che potenti anime spaziali ci stanno attaccando. Che vogliamo fare? Per cominciare cerchiamo di non arrabbiarci. Se stiamo uniti non c'è pericolo. Frank e Mandy arriveranno alla capanna della forestale e entro oggi. E i soccorsi partiranno appena farà giorno. D'accordo, ma intanto che facciamo?